Carlo Bucci Rosso è la sala Umberto di Roma sino a 5 aprile, poi in torne con il suo nuovo spettacolo dallo scritto diretto interpretato intitolato I compromessi sposi. Visum l'ha incontrato. La storia recupera in rispunto il testo ovviamente quella della quasi omonimo romanzo manzoniano rappunto a Bucci Rosso ma la diversità presente nel titolo non è casuale. Gli sposi sono compromessi e non promessi e l'accento spostato con comicità su impedimenti economici che derivano dal matrimonio di Erezza e Lucia. Io nelle vesti di Don Don Rico presto i soldi a tutti, ad Agnese, alla Perpetua e a Don Abbondio faccio un po' da guastafeste, da guappo di feriferia ed uso il potere economico per taglieggiare i vari personaggi e ottenere la bella lucina. Ma chi l'ha detto sostiene Bucci Rosso che il motore della vita è l'amore, è il denaro e questo elemento è il filo conduttore dello spettacolo. Grazie. 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 Grazie.